La Cara o la Cara, chissà come si dice, Camping. L'abbiamo visitato, è bello, c'è un sacco di ombra e un sacco di spazio. Se non mi sbaglio col nome, questa è la spiaggia o il campeggio, magari hanno entrambi lo stesso nome di Lagora, a sud di Vurvuru, pochi chilometri, sarà 5-6 chilometri a sud. In effetti, se mi giro, questa è la spiaggia, lì c'è un campeggio mezzo agli alberi, quindi molto, molto ombreggiato. Ci sono anche delle piazzole libere, nonostante sia ormai sabato, sabato 11 agosto, se non sbaglio con la data. Qua c'è questo pontile e là sullo sfondo si vedono ancora le ville che sono sul promontorio, appena a sud di Vurvuru. Qui la sabbia, la spiaggia è di sabbia grossa, diciamo, sabbia grossa, l'acqua è bella trasparente, anche qua c'è a tratti qualche pezzo del nero galleggiante, sono i residui dell'incendio che c'è stato sulla penisola del Monte Athos. Ah, qui al campeggio per entrare abbiamo dovuto lasciare la carta d'identità, se no non si poteva, venire a far visita e se volete stare qua in spiaggia dovete pagare qualcosa, non l'ho chiesto perché tanto noi ce ne andiamo. Il campeggio è abbastanza grande, piazzole libere, a agosto. Il campeggio è un'altra, piazzole libere, a agosto. Il campeggio è un'altra, piazzole libere, a agosto.